Perché è importante comprendere come avviene il processo metacognitivo? Perché tale comprensione può essere usata per guidare comportamenti e decisioni sia degli studenti sia dei docenti che di fatto agiscono, progettano le esperienze di insegnamento e apprendimento. Le componenti chiave del processo di metacognizione individuate nel framework di Nelson & Narens del 1990, uno dei più noti, sono due. La prima è il monitoraggio, ovvero la raccolta di informazioni sul livello di apprendimento raggiunto relativamente all'oggetto di studio, che stimola il processo di riflessione. La seconda è il controllo, ovvero come le informazioni raccolte attraverso la fase di riflessione guidano i comportamenti successivi. Monitoraggio e controllo sono in stretta relazione. Se le informazioni raccolte da uno studente nel momento di monitoraggio sono accurate e la riflessione che ne segue è efficace, c'è una buona probabilità che il processo di controllo successivo, e quindi lo studio, avvenga in modo altrettanto efficace. Esistono numerosi modelli, ma ciò che di fatto tutti sottolineano è che gli eventi di riflessione e metacognizione devono portare lo studente a raccogliere dati significativi, per poi stimolare il ragionamento su come è arrivato a rispondere alle domande legate all'oggetto di studio. Attenzione! Ciò significa far riflettere sulla conoscenza di informazioni e dati, sviluppata in termini di memorizzazione, applicazione, valutazione e così via, ma anche sullo sviluppo di competenze e abilità trasversali che solitamente vengono messe in campo, per esempio durante eventi di discussione, applicazione, ricerca e produzione. Ma quali strategie pratiche può utilizzare il docente per stimolare i processi di riflessione e metacognizione? In alcuni contesti il tutto avviene separatamente dalle lezioni, all'inizio o alla fine del percorso. Per esempio, vengono somministrati questionari iniziali che registrano aspettative e obiettivi e questionari finali che chiedono di descrivere il percorso svolto e il livello raggiunto in termini di risultati di apprendimento. Il docente può però utilizzare varie strategie che supportano le abilità metacognitive degli studenti anche all'interno della lezione e dei corsi. Una prima strategia, molto semplice, è legata alla tipologia di domande da proporre durante le lezioni. Invece di chiedere agli studenti, avete capito, è meglio fare domande specifiche e mirate che stimolino la riflessione sul cosa, come, quando e perché delle informazioni trasmesse. Il docente può inoltre proporre attività di retrieval e di autovalutazione che stimolino la riflessione sulle reali conoscenze acquisite e sulla loro trasferibilità in altri contesti. Ad esempio, può chiedere di creare mappe concettuali legate ai metodi e i processi utilizzati o proporre quiz ibridi e così via. Importante è sempre fornire feedback ricchi che magari offrano anche spunti di miglioramento sul processo di studio. È poi possibile stimolare gli studenti a programmare sessioni di studio distribuite nel tempo, per esempio proponendo brevi prove periodiche somministrate in aula che eventualmente abbiano anche solo un piccolo impatto sulla valutazione finale. Lo spacing è una strategia studiata dagli esperti di psicologia cognitiva che ne evidenziano i buoni risultati in termini di apprendimento duraturo. Ciò avviene sia perché lo spacing implica un'attività di retrieval tra una sessione di studio e l'altra, sia perché sessioni di studio svolte nel tempo permettono agli studenti di comprendere le loro lacune, quindi stimolano processi di riflessione e metacognizione e una variazione sull'intensità e modalità di studio. Grazie a tutti.